Sono il soldato romano, Longino. Sì, sono io che ho intrecciato una corona di spine per metterla sul capo di Gesù. Sono io che l'ho aiutato a rialzarsi ogni volta che cadeva sotto il peso della croce. Ma ho visto anche che egli perdonava tutti coloro che lo percuotevano e lo diridevano. Così, quando Gesù fu sulla croce, mi sono fatto coraggio e ho chiesto a Gesù di perdonarmi. Credo che egli fosse veramente il figlio di Dio. In una stazione, Gesù cade per la terza volta. Gesù deve trovare la forza di rialzarsi ancora e riprendere il cammino lungo una via di cui conosce la meta, la crocifissione. I soldati lo strattonano e lo spingono frettolosi. Non si commuovono per il suo dolore. Ti preghiamo Gesù di perdonarci quando ti mettiamo alla prova, quando dubitiamo di te. Così com'è, hai aiutato il soldato romano, Longino, a credere in te. Aiutaci a non perderti di vista. Solo così riusciremo a rialzarci e a continuare a camminare. Donaci il coraggio di cambiare, perché solo con una vera conversione possiamo credere veramente. Come il soldato Longino, che di fronte al mistero del tuo amore ha creduto in te. Come il soldato Longino, che di fronte al mistero del tuo amore ha creduto in te. Come il soldato Longino, che di fronte al mistero del tuo amore ha creduto in te. Come il soldato Longino, che di fronte al mistero del tuo amore ha creduto in te. Grazie.